E' una delle ultime frontiere delle violenze online, quella dei cosiddetti stupri virtuali e consiste nel postare foto rubate in qualche modo alla rete o scatti presi per strada di donne per lo più giovani. Su quelle immagini vengono riversati commenti osceni di tutti i generi e vengono sfogati i peggiori istinti senza che le vittime nemmeno lo sappiano. Lo ha detto il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Lucio Vaira, nel corso di un incontro su legalità e sicurezza con gli studenti dell'Istituto Lotti Umberto I di Andria. Questo è un territorio difficile sia dal punto di vista della droga, della presenza della criminalità anche organizzata e quindi è particolarmente importante per noi magistrati far conoscere il nostro lavoro, parlare di legalità, entrare negli istituti scolastici per rispondere anche a quelle che sono le loro domande ed eventualmente le loro curiosità. All'incontro hanno partecipato anche l'avvocato Tullio Bertolino, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e l'avvocato Francesco Montingelli, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Rivolgendosi agli studenti hanno parlato non solo di cyberbullismo ma anche di legalità come sinonimo di libertà perché hanno sottolineato la libertà personale finisce dove inizia quella degli altri. È necessario quindi prestare attenzione ai comportamenti perché la giustizia presenta sempre, anche se con ritardo, un conto da pagare. Ai ragazzi bisogna parlare con il comportamento. Se si è rispettosi della legge e rispettosi dell'altro e quindi si pretende altrettanto rispetto, si è già creato un ambiente di legalità. Questo potrebbe essere le semplici parole per dire ai ragazzi si fa così. In questa età di mezzo, dai 13 ai 18 anni, loro devono capire che le loro azioni hanno delle conseguenze e se non rispettano la libertà altrui possono incorrere in delle sanzioni anche abbastanza dure. L'incontro costituisce il primo di una serie di appuntamenti organizzati con l'Ordine degli Avvocati di Trani per consentire ai ragazzi di svolgere attività di alternanza suolo lavoro sino alla simulazione di un vero e proprio processo in classe. Un progetto che conferma l'importante ruolo ricoperto dalla scuola nella formazione degli studenti. Deve guidare i ragazzi in questo percorso di crescita che li vede a pieno titolo coinvolti anche con questi fenomeni, devo dire, oggigiorno molto molto diffusi, tipo quelli del cyberbullismo, della discriminazione tra pari, tra adolescenti e quindi l'incontro rappresenta veramente un momento, un'occasione utilissima perché loro prendono consapevolezza della gravità dei certi comportamenti che spesso sottovalutano.